Questa volta, dannati voi, tocca a me. Cosa farai questa sera, Raph? Cosa farà Camillo? Oh, adesso Camillo si perresterà perché ormai il suo ruolo è quello del feticista web. E andateci piano. E si farà schiacciare la mano dal tacco di Nicoletta. Trampling, trampling, signori, trampling. Attenzione, attenzione. Ci siamo. Attenzione. Gran finale davanti a tutti. Radio Chaos Italy. Come mi metto? E allora, trampling per terra. La metti, la metti, è finita. Sempre per terra, ti devi sdraiare per terra. Vai. Stendere la mano. Ok, perfetto. Posso salutare mia mamma? Saluta tutti. Mamma ti ho voluto bene. Molto, molto, molto bene. Saluta anche la professione teatrale. Saluto tutti. Saluta tutti. Tutti è la mia professione di attore. È andata a farsi benedire, friggere, come volete voi. Perfetto, io mi presto di nuovo a questo gioco. Federico Rossi, ti prego, almeno in spirito, in anima, resta con me al mio fianco. Racconteremo di te che eri un bravo uomo. Grazie. Salutavo sempre. Attenzione. Sarei salutavo sempre. Gran finale, gran finale. Ecco Camillo, ventola, che si sta sdraiando per terra. No, ti devi proprio sdraiare, Camillo, per terra. E' un tappetino umano. Esatto, tappetino. E allora vai col trampling. E allora andiamo col trampling, signori. Attenzione, avanti tutta. Fermete la terra che non sei altro. Eccolo lì, eccolo lì, è lì. Yeah. Avanti tutta, ci vediamo la prossima settimana, se Dio vuole, con i dei degli Olimpo che suoneranno qui live, vincitori del Sanremo Music Awards. C'è Claudio che si sta divertendo come un matto. Federico Rossi tra un po' sviene. Almeno la chiudiamo in allegria dopo i rapporti di paura. Vi odio tantissimo e stavolta che non dormirò peggio delle altre. Saludiamo anche i stregati dalla rete che stanno qui al freddo, ci stanno ascoltando, ma tra poco riscalderanno l'ambiente con le loro bombe radiofoniche. Nicoletta Branco. Ciao. Michelle Menard. Alla prossima. Claudio Zecchin. Ciao. Eccolo lì, le presenze che ci hanno ascoltato. Ha accompagnato e ascoltato per tutta la durata della trasmissione. Federico Rossi. Federico Rossi, eccolo qui. E i ragazzi di Stregati dalla rete che sono stavolvi. Eccoli là, tac. Pronti, caldi, così, quindi, ragazzi, perfetto. A Radio Ascoltatori, Radio Chaos Italy, non andate.